Con il tentativo di Olga Pant di assumere il comando, rientra però bene Ollastra, mentre a largo è Osana De Gloria che parcheggia subito alla corda. Saltano via alcuni birilli. Intanto rimane all'esterno Olga Pant con in terza posizione in corda, Orca-Loca, ben partita dalla seconda linea, ma davanti è Ollastra che conduce. Osana De Gloria in scia, Olga Pant rimane all'esterno e prova a riportarsi su Ollastra che tira via comunque a buona andatura dopo il primo strappo in 15, completa il quarto in 29,9. E così si accoda Olga Pant dopo 450 metri. Quarta posizione per Orca-Loca, poi c'è Only Cast, via via tutti gli altri. Numero 1, Hortank Baba squalificato. Squalifica per Hortank Baba dopo 650 metri di gara, intanto tutti in fila indiana alle spalle di Ollastra che guida il plotoncino dopo un giro di gara in 1,1 e 8. All'esterno avanza Opaleron dopo 800 metri esatti, è ancora molto lontano dalla testa però. Intanto Ollastra leader nei confronti di Olga Pante e Osana De Gloria, poi Orca-Loca che a questo punto muove quando siamo al chilometro in 1,18 e 7. La progressione decisa di Orca-Loca. Siamo ora a 500 dalla conclusione, con Orca-Loca che cerca di avvicinare Ollastra che comunque mantiene il ritmo sollecito, il parziale in 15,7. Siamo ora sulla curva conclusiva. Orca-Loca si avvicina, raggiunge Olga Pante in seconda posizione, tenta di avvicinare anche Ollastra mentre a largo c'è anche Only Cast. 9, occulto, squalificato. Ultime battute con tentativo di difesa di Ollastra ma dall'esterno c'è lo scatto di Osana De Gloria che prende il sopravvento nel finale e vince su Orca-Loca che a sua volta ha ragione di Olga Pante. Da rivedere comunque il finale, 1,18 e 3, il raguaglio conclusivo. Il successo per Osana De Gloria e Andrea Buzitta, secondo posto per il numero 8, Orca-Loca che piega di precisione Olga Pante, poi Only Cast e Ollastra. A chiudere il marcatore. A chiudere il marcatore.